Eccoci qua, allora, siccome va la lavatrice, perché sono dettagli, iniziamo a... vi mostro quello che uso e ve lo mostro senza che io parlo, così almeno diventa un po' più semplice per me. Vi mostro i prodotti che uso e come si fa questi trucchi qua. Ne ho scelti tre diversi, uno che adesso vi faccio vedere, non mi ricordo se l'avevo già fatto l'anno scorso, ma credo di no, perché l'avevo fatto, ma mi ero poi dimenticata di caricarlo su il canale. Per cui lo faccio e iniziamo da questo, che è Queen e qualcosa, la ragazza di blu e di rosa. E iniziamo quello da più semplice, andando avanti con gli altri due. Come avete già visto nell'intro, queste tre, diciamo, per Halloween. Io vi ricordo adesso, cioè vi ricordo, io ve lo dico adesso, che non prendo, diciamo, prendo qualche esempio da questa foto qua, ma non lo faccio uguale, uguale identico. Per cui cambierà, che ne so, i capelli, cambierà qualcosa, quello che praticamente vedete. Per cui l'altra volta parlavo e mostravo i prodotti. Questa volta, se per caso vi piace, lo faccio mostrando solo i prodotti nella telecamera, senza parlare con la musica sottofondo, perché giustamente c'ho la lavatrice e non è che sia tanto bello. Iniziamo, così o meno questi video durano poco. Iniziamo dall'uno, poi dal due e poi dal tre. Allora, intanto metto questo, che come vedete dalla foto, lei ha due codini con i capelli, uno blu e l'altro rosa. Siccome io non ho, diciamo, il colore, perché non li ho trovati, uso l'extension finta. Anzi, lo metterò sotto, che così non si vede. Non si vede, ma ho sbagliato. Iniziamo bene. Non lo so, adesso vediamo se va bene così, se no. Comunque lo faccio diverso, specialmente i capelli che hanno trovato il giusto. Ok, invece, da questa parte, per i capelli, uso il prodotto, il colorante. Tanto poi farò la doccia. Uso questo qua, che non sarà, diciamo, questo colore qua. Non so se si vede. È carino come il colore. Grazie. 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 Grazie.